Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il consigliere regionale irpino ex demitiano Maurizio Metracca ha aderito al Partito Democratico. Applausi, abbracci e baci dal Lazzareno fino al commissario della Federazione Avedinese Aldo Cennamo e alla presidente Rosetta D'Amelio, la quale ha voluto rilanciare le seguenti parole del segretario nazionale Zingaretti. Petracca contribuirà ad aprire le porte del partito a nuove energie. Cosa dire? Questa è la contabilità in entrata nel PD Irpino. Ora bisognerà vedere a quanto ammonta la contabilità in uscita. Cosa dire? Questa è la contabilità in uscita.